L'avvocato Ciro Dalò, primo cittadino di Grottaglie, certamente l'orgoglio di vedere, mi passi l'espressione, Grottaglie è un bellico del mondo perché stiamo parlando di eventi internazionali, vino e musica e proprio qui durante questa prima manche della gara dei tornianti bendati il vincitore è un ceramista, un artista turco a riprova della dimensione internazionale di queste serate Ma sì, certamente Grottaglie ambisce ad ospitare tutte le grandi esperienze culturali, artistiche, artigianali e quindi vino e musica insieme ad altri è uno dei contenitori per cui una bellissima iniziativa e un grande campione perché ha realizzato un'opera d'arte bendato quindi si continua questa sera con tante esperienze, il vino, la musica, l'arte, l'artigianato, ovviamente la bellezza del quartiere Mondial tornianti tra la specialità a cilindro e la specialità a ciotola e nel clou siamo infatti alla seconda manche della fase a ciotola, mi sto facendo una cultura Assessore Bonfrate, una manifestazione riuscitissima, concorrenti che vengono dalla Turchia, dall'Emilia Romagna, dalla Puglia, dalla Campania insomma che dire, un territorio che pulsa Sì, siamo veramente contenti di come stia andando questa manifestazione questa sera tra l'altro abbiamo visto che le performance dei nostri grottagliesi, lo faccio adesso un po' di campanilismo stanno andando veramente bene, quindi sono contento di come i nostri artisti, i nostri tornianti stanno andando veramente bene questa sarà la terza match e ci sarà quindi un premiato, siamo contenti di come stia andando siamo contenti anche della gente che sta visitando la nostra città e sta vedendo come in realtà gli artisti possono avere veramente un futuro